Presenti alla fiera con lo stand della Fondazione Guido d'Arezzo, il primo di luglio che cosa accadrà? Il primo di luglio ci sarà l'inaugurazione della seconda versione del Museo dell'Oro, quello che conterrà per intero la collezione oro d'autore che la regione toscana ha comprato nel 2018 per un importo consistente che è finito nelle casse di Arezzo Fiere e che oggi dal primo di luglio potrà essere vista per intero in Piazza Grande perché il Museo dell'Oro è in Palazzo di Fraternita, quindi la collezione che è bellissima ma che sta nei sotterranei, nel cavo di Arezzo Fiere finalmente vedrà la luce tutta insieme, potrà essere fruita da turisti e da operatori del settore ed è il momento in cui la produzione industriale e quindi la manifattura retina si unisce alla capacità di produrre un gioiello artistico e questo è la più grande espressione. La miglior vetrina del nostro compagno? Direi proprio la miglior vetrina è il fatto di averla spostata in Piazza Grande che è diventata un po' la piazza simbolo della città dove moltissimi turisti si ritrovano per vederne le bellezze per fruire anche del Museo di Palazzo di Fraternita di fatto troveranno anche il Museo dell'Oro e ricordo che al primo piano abbiamo la Casa della Musica quindi abbiamo riunito nello stesso palazzo le due grandi eccellenze aretine quindi Guido d'Arezzo, la musica e la produzione metallurgica e orafa della nostra città.